Presidente, voi vi conoscevate da tantissimo tempo, lei ha detto una misura sia affettuosa che non si è interrotta neanche per i vissensi. Certamente credo che questa sia una cosa bella. Linea di principio e come esempio perché le nostre posizioni si erano allontanate da tempo e poi c'è stato il confronto duro per il referendum sulla riforma costituzionale, ma siamo entrambi di comune accordo sfuggiti a qualsiasi sollecitazione per un incontro diretto tra di noi che fatalmente rischiava di diventare uno scontro. Bisogna saper preservare l'amicizia.